Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo siparietto letterario. Che cos'è il siparietto letterario? È un appuntamento a cadenza mensile. Diciamo che è un'occasione di incontro per leggere e ascoltare alcuni brani tratti dai miei libri, io amo scrivere si sa ormai, e anche dai libri di divulgazione scientifica che abbiamo scritto in due in tandem con Antonella Mongiardo che è mia figlia. Perché la lettura di questi brani? Perché da questi brani emergono momenti delle tematiche varie, ogni brano presenterà una tematica varia e tematiche che poi si offrono per spunti di riflessione e di interpretazione. Anche il brano che sto per proporvi porta fuori e tira fuori una tematica. Qual è questa tematica? È le visioni che colgono la protagonista del libro, Valentina, visione che l'ha addirittura causata da emozioni forti che la trasfigurano nella mente e nell'animo. Il brano è tratto dal libro Tra i flutti della bassa marea, uno dei libri, uno degli ultimi libri. Questo libro è stato scritto e ambientato nel Museo archeologico Lametino. La storia è ambientata in un museo archeologico non nominato, però si è ispirato chiaramente al Museo archeologico Lametino e infatti ho ritenuto doveroso fare proprio la dedica del libro al Museo archeologico Lametino perché è stata la spinta a scrivere, a iniziare a scrivere questo libro e perché molte vicende si svolgono all'interno di questo museo. Non solo. In questo libro è facile, chi legge questo libro è facile che riconosca molti posti. È stato un omaggio quasi alla mezzia questo libro, ecco perché inizio la serie con questo libro è perché si riconosce, si riconoscono molti posti. La ragazza rimirò a lungo con l'occhio della notte l'antico monastero benedettino adiacente al museo che lei ben conosceva. Alla luce soffusa della luna aveva un aspetto spettrale. La stessa sensazione di mistero ispirava l'immagine notturna del museo. Tutto sembrava creare attorno alle due strutture un'atmosfera sfumata, irreale, un'alone di magia e stregoneria, come se fossero attorniate da presenze invisibili. Valentina si aspettava di vedere da un momento all'altro un fantasma, affacciarsi da una delle molte finestre intorno a lei, prendere vita e assumere le sembianze di qualche remoto abitante di quelle vecchie di More. Ora il fantasma era proprio lì, o per meglio dire una folla di fantasmi che davano vita a una danza tribale. Valentina osservava la folla sempre più numerosa che continuava a danzare con crescente frenesia, ma adesso non lo faceva più davanti alle finestre dei palazzi. Si era trasferita sul pello dell'acqua che fluendo con moto lento e silenzioso andava a cadere sul fondo della chiatta dagli zampilli colorati. A Valentina balzò in mente che tra quei fantasmi potesse alleggiare anche qualche suo antenato. A quel pensiero sollevò un braccio, agitando la mano in segno di salute. Eccomi, sono qui, avrebbe voluto gridare per farsi riconoscere da lui. Le visioni offrono lo spunto a delle riflessioni. Che cosa sono le visioni? Sono forme di alluginazione? Sono frutto di una fantasia sfrenata al massimo. E vorrei dire a voi la libera interpretazione. Ognuno dà una propria interpretazione alle visioni. Io ho dato una mia interpretazione nel libro, un'interpretazione diciamo scientifica, mi auguro, ma un po' arbitrario diciamo. E che non vi rivelo però, non ve lo rivelo perché non vorrei far perdere il gusto a chi si accingesse a immergersi nella lettura del libro. La seconda parte del nostro siparietto letterario è dedicata invece ad un argomento che a noi sta particolarmente a cuore. Tant'è che gli abbiamo dedicato anche un libro, scienza e letteratura a confronto, alla ricerca dei legami più intimi tra la cultura scientifica e la cultura umanistica. Allora, di cosa si parla in questa rubrica? Noi vogliamo lanciare, come dire, un messaggio. Approfittare di ogni situazione culturale, diciamo, di ogni incontro per lanciare un messaggio, come dicevamo anche l'altra volta. Cioè l'importanza dell'unitarietà del sapere, cioè le conoscenze, le discipline non sono mondi separati e distanti fra loro, ma al contrario invece si incontrano, si intrecciano per dare poi quella che è la visione unitaria e completa della cultura. In ogni rubrica noi offriremo una piccola pillola di matematica. Attenzione però, non vi spaventate, è una matematica, diciamo, divertente, simpatica, piacevole, allegra, dolce. Più che una pillola, possiamo definirla un confetto, diciamo, di matematica. E questo confetto sarà sempre accompagnato da un'immagine che ci darà lo spunto poi per un racconto animato, che poi vi farò vedere. Allora, la pillola è questa, una piccola pillola di matematica. Eccola qui. Eccola. Questa pillola, vedete, questo confetto, chiamiamolo così, è stato realizzato dagli alunni della scuola che dirigo, l'Istituto Comprensivo Manzoni-Augruso di Lamezia Terme. In particolare è stato creato dagli alunni delle classi di quinta primaria del plesso di Bella. Però poi in ogni puntata tutti i ragazzi, insomma, anche degli altri plessi, ci delizieranno con delle loro piccole creazioni che vi offriranno in omaggio. Allora, che cosa contiene questa pillola? Prima vogliamo intanto spiegare perché proprio la matematica. Perché una pillola di matematica? Perché la matematica, diciamo, offre lo spunto, offre molti spunti in realtà, per un dibattito interdisciplinare. perché la matematica con i suoi concetti è presente, diciamo, in ogni aspetto della nostra vita. Allora, vediamo che cosa contiene questa pillola. Allora, la matematica è presente ovunque nella nostra vita quotidiana, anche nel nostro linguaggio. Vediamo un po'. La pillola di oggi contiene un modo di dire. È un modo di dire. Cosa vuol dire cercare la quadratura del cerchio? Allora, Renato, se io ti dico, Renato, guarda, dammi retta, tu stai cercando la quadratura del cerchio. Proprio. È un modo di dire questo, no? Però da che cosa nasce? Ecco, bravissima. In pratica che cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo cercando la quadratura del cerchio. È una soluzione ideale per un problema, però è una mission impossible. Cioè, stiamo tentando l'impossibile perché il problema è talmente complesso che in realtà una soluzione non c'è. Quindi, da che cosa nasce però questo modo di dire? È questo allora che è curioso, no? Insomma, scoprire. Perché la quadratura del cerchio, scusate ma sono senza voce, nell'antichità, fu il tormentone dei matematici, i quali non riuscivano a disegnare, vedete, utilizzando riga e compasso, un quadrato che avesse la stessa area di un cerchio. Cioè, ci provarono poverini per millenni a risolvere questo problema, però non ci riuscirono. Perché questo? Per colpa di un numero molto birichino, diciamo, molto dispettoso, bizzarro, stravagante, che si chiama pi greco. Il famoso numero pi greco. Pi greco è un numero irrazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha la virgola e ha infinite cifre dopo la virgola, però senza un andamento regolare, cioè senza un andamento periodico. Dal punto di vista, diciamo, concettuale, il pi greco è molto semplice da definire, perché è semplicemente il rapporto costante fra la lunghezza di una circonferenza, diciamo, e il suo diametro. C'è questa costanza, diciamo, cioè qualsiasi cerchio, io consideri, ma di qualsiasi dimensione, se io vado a misurare la lunghezza del bordo, della circonferenza, e lo divido per il diametro, ottengo sempre un rapporto costante, che è appunto il pi greco. Che è approssimato, diciamo, a due cifre decimali, insomma, è circa 3,14, ed è un numero con cui i ragazzi imparano davvero a che fare, insomma, imparano a utilizzarlo già dai primi anni di scuola. È molto famoso, è molto importante il pi greco, tant'è che nel 2009 il congresso degli Stati Uniti d'America gli dedicò una giornata mondiale chiamata il Pi Greco Day, che viene festeggiata tutti gli anni, dalle scuole e dalle università di tutto il mondo, il 14 marzo. Perché proprio il 14 marzo? Perché nella notazione anglosassone 14 marzo si scrive proprio 3,14. E prima di passare al raccontino, al breve raccontino animato, diciamo, un'ultima curiosità sfiziosa. Il 14 marzo è anche la data di nascita del grande fisico Albert Einstein. Eccolo qua. C'è questa curiosa coincidenza, diciamo. Ok, a questo punto possiamo passare alla video. Il numero Pi Greco ha sempre attirato l'interesse dei matematici, ma non solo, anche di fisici, ingegneri, biologi, astronomi, persino di artisti e letterati. Il nome Pi Greco è stato scelto nel 1706 in onore del grande matematico greco Pitagora di Samo. A Parigi, nel Museo della Scienza, c'è la sala Pi Greco di forma sferica e recante sulla volta una decorazione a forma di spirale che riproduce le prime 707 cifre di Pi Greco. Il Pi Greco rientra in moltissime leggi fisiche, che ci permettono ad esempio di costruire ponti e palazzi, calcolare le orbite dei satelliti, prevedere l'andamento dei mercati finanziari e studiare la propagazione delle onde elettromagnetiche che fanno funzionare i cellulari. Pi Greco è anche nei fiumi. Pensate che il fisico Einstein intuì una cosa straordinaria, cioè che la sinuosità di un fiume, ossia il rapporto tra la lunghezza effettiva del fiume dalla sorgente alla foce e la lunghezza del percorso lineare tra questi due punti è proprio 3,14. Nell'antichità, secondo gli egittologi, il Pi Greco fu utilizzato nel progetto di costruzione della piramide di Cheope, la maggiore delle tre grandi piramidi realizzate per costudire le spoglie dei faraoni. Anche illustri letterati hanno accolto Pi Greco nelle loro opere. Dante Alighieri ne parla nella Divina Commedia. Italo Calvino gioca con Pi Greco in uno dei suoi più celebri romanzi, Le Cosmicomiche. Alessandro Baricco nel suo libro City parla del legame inscindibile tra fiumi e Pi Greco, tra natura e matematica. E parlando di vita quotidiana non si può fare a meno di menzionare il cibo. E con un pizzico di fantasia Pi Greco può entrare anche nella gastronomia. Il 14 marzo del 1988 durante la prima giornata organizzata in onore del Pi Greco a San Francisco lo staff del Museo delle Scienze e gente comune marciarono solennemente intorno a un edificio circolare per dirigersi verso delle crostate di frutta preparate per l'occasione. Da allora è rimasta ancora oggi la tradizione di preparare dolci a tema per festeggiare il Pi Greco dei giornata internazionale della matematica. Complimenti! Intanto veramente bravi, bravi complimenti perché noi vai, vai vai con la conclusione siamo vicini a te. volevo fare una piccolissima osservazione sulla cultura sull'unitarietà della cultura che vuol dire che la cultura è sempre unitaria e che vuol dire vuol dire che il filosofo deve essere uno scientifico uno scienziato il poeta deve essere pure scienziato la cultura è tolta un breve periodo su cui ci fermeremo qualche volta dove la cultura si è scissa in due parti da una parte l'umanistica dall'altra parte la scientifica ma è stato breve il periodo la cultura va sempre a braccetto ogni ramo va a braccetto con l'altro però volevo fare chiudo volevo fare una osservazione sul diverso percorso che ha avuto questa cultura unitaria e nell'arco dei millenni cioè dando un'occhiata all'origine e poi vedendo qual è la situazione oggi nel 2000 allora all'origine dei tempi pensanti e per lo più il filosofo il poeta si ponevano tante domande e si osservavano e cercavano di darsi con i ragionamenti chi con le rime cercava cercava ognuno di darsi delle risposte risposte che poi si rivelarono secoli dopo esatte e allora ecco che e divennero leggi ecco allora che il filosofo il poeta è pure uno scienziato un esempio breve breve era Tostene è un antico poeta greco si dilettava a rimeggiare osservando un giorno l'ombra di un bastoncino proiettato sulla terra una determinata ora ci riflette sopra e riuscì a trovare il diametro della terra che si rivelò poi dopo esatto quasi al millesimo quindi un poeta divenne era Tostere divenne scienziato adesso facciamo un salto di millenni e arriviamo all'età di oggi nel 2000 nel 2000 siamo tutti scienziati cioè che vuol dire in che senso che conosciamo tutte le regole le leggi basta pigliare un libro e le impariamo quindi conosciamo scienziati nel senso di conoscere quindi non si possono più inventare quasi cose e allora che succede che si parte dalla scienza per arrivare ai romanzi infatti molti fisici matematici e scrivono dei libri dove trasferiscono tutte le loro conoscenze scientifiche ed ecco che esce fuori la narrazione fantascientifica un esempio per tutto e concludo Philip Dick un americano che ha numerose conoscenze scientifiche soprattutto nella robotica che cosa fa Philip Dick e trasferisce le sue conoscenze robotiche nei suoi libri e nascono così libri che divennero cult e poi cult chiedo scusa per la pronuncia e poi questi libri si ebbero una trasposizione una trasposizione cinematografica che divennero pure loro cult quali sono questi libri Blood Runner Noi Marziani Memoria Totale Morale lo scienziato diventa scrittore adesso in passato lo scrittore diventava scienziato quindi un'inversione di percorso that me mi Grazie a tutti.